Alla mano, mece a rilento, Albatro si sveglie e vince, adesso si guarda in alto. Successo maturato nel secondo tempo dopo un primo parziale alquanto soporifero con i padroni di casa bravi ad approfittare di alcuni errori dei blu-arancio. Partita decisamente diversa nella ripresa con i blu-arancio che mettono in campo la maggiore esperienza e una concentrazione maggiore. L'allungo decisivo nei primi 13 minuti con un parziale di 8-3 per il blu-arancio, vantaggio che sale pian piano grazie all'ottima difesa alle parate di Fasanelli. Vittoria importante per gli uomini di Garralda che ricominciano la corsa verso i piani alti della classifica.